E' un'ambulica che mi aiuti. E' un'ambulica che è la... Sei fratello? Allora, la canzone ha una... Perché lo scelta? Perché mi ricordo una memorabile versione di Francesco al full studio di Giancarlo Cesaroni, di Giasacchi, dove venne con tutta la band completa e vuole fare questa cosa inusuale, perché allora ascoltavo per non più le sue canzoni. E invece vuole fare un omaggio al full studio di Hobo Slalapai, la lina nanna del vagabondo, dell'Hobo. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione